Eccoci. Bello, complimenti. Molto bello, sì. Vediamo di riuscire a una certa atmosfera che è il finale soprattutto di questo filmato con questi meravigliosi vestiti disegnati e realizzati da Maria Antonia Bevilacqua, che è un artista e designer appassionata di moda. Ed è la custode della memoria di una cultura del bello, possiamo dire, e di una moda che ha senz'altro emozionato i nostri bisnonni. Vorrevo chiederle, Maria Andolietta, come è nata questa sua passione per i vestiti di epoca? Ci può dire qualche cosa? E a che epoca si riferiscono in modo particolare quelli che abbiamo visto? Certo. Intanto grazie perché è stata una sorpresa anche per me vedere questo video dove avete inserito gli abiti. Grazie mille. Sicuramente Federico ha fatto il suo. Certo. Allora, praticamente questi abiti si rifanno all'epoca vittoriana, gotica e rinascimentale. Cosa voglio dimostrare io con questi abiti? In pratica, quando ho avuto l'idea di creare questo tipo di abiti, mi sono guardata un po' in giro. Ho detto, vediamo un po' se c'è qualcuno che gli fa, così io questa idea la metto da parte. Non c'era nessuno e quindi ho iniziato. Però c'è da dire una cosa, che io fin da bambina facevo dei vestitini, partecipavo al carnevale, mi piaceva tantissimo, lo sfarzo, i colori, l'eleganza. E quindi ho iniziato così, a fare gli abiti, indovinate un po' come, incollati con la colla a caldo. Perché non sapevo cucire a macchina, ero ragazza, per cui non sapevo ancora cucire a macchina. E ho iniziato così. E poi, insomma, andando avanti, ho partecipato a tanti eventi. Quindi mi invitano, io dico mi invitano, ma in realtà è tutto il gruppo di cui io faccio le veci, no? Partecipiamo a feste di piazza, con questo bel gruppo che si chiama Le Nobiltame. Il nome però non è stata una mia idea, e io lo devo dire di chi è stata. È stata un'idea di Federico, che ancora oggi ringrazio, perché un giorno ci siamo messi a pensare ma come lo chiamiamo questo gruppo? Ma cosa possiamo fare per renderlo bello, magico, per far capire l'idea di cosa vogliamo fare? Ecco, e lui ha pensato Le Nobiltame. Un ottimo modo per sottolineare la grazia di questi vestiti. E nel futuro che progetti avete per il futuro? Allora, intanto abbiamo fatto tantissime cose, io insieme alle modelle, eccetera, con Federico abbiamo collaborato tante volte, abbiamo fatto servizi fotografici, abbiamo partecipato ad eventi, eccetera, sia di piazza, sia il Castello Ducare di Corigliano, il Teatro di Cassano, il Teatro di Cosenza. Ho avuto la collaborazione bellissima con il professor De Vita di Trebisacce, con sua moglie e l'assessore Aloisi. Insomma, ci sono tante e tante persone che potrei nominare, con cui ho collaborato. Siamo stati fermi, come sapete, come tutti, e adesso dovremmo ripartire. Intanto iniziamo con i servizi fotografici, insomma, dei nuovi abiti, del nuovo abito intanto. E se mi permettete, ve lo mostro. È questo qui. Certo. È in fase, ovviamente, ancora di creazione, devo dire, perché è soltanto così. Così, imbastito, si dice in gergo sartoriale. E quindi, grazie. Una volta finito, penseremo un po' al servizio fotografico, location e tutto quanto, così per poter ripartire con eventuali sfilate, feste, eccetera, eccetera. Grazie mille, grazie, Maria Androna. Prego, prego. La tua collaborazione e la tua presenza. Grazie a tutti voi.